Ex province, abbiamo scherzato, ma lo scherzo, se così vogliamo chiamarlo, potrebbe continuare. Martedì pomeriggio arriverà in aula un nuovo emendamento che potrebbe cancellare questo approvato mercoledì sera e che ha rinviato sin e di entro la data massima di un anno, 30 maggio 2020, le elezioni di secondo grado dei presidenti e dei consigli dei liberi consorsi dei comuni e delle città metropolitane. E il nuovo test a Sala d'Ercole sarà pesante per chi ha a proporre l'emendamento e il governo, obiettivo farlo approvare prima che la legge sulla pesca, nel quale il rinvio del voto sulle ex province è stato fantasiosamente collocato, venga promulgata. Ennello Musumece a dare l'annuncio con la determinazione di chissà di proporre uno spartiacque. Insomma, il voto sulle province non può essere rinviato senza conseguenze sulla vita del governo stesso e della coalizione che lo sostiene. Fino all'ipotesi estrema di una rottura traumatica della legislatura. Insomma, Musumeci di patto della Madonnino, comunque di intese più o meno sotterranee, tra gli alleati non vuol sentir parlare. D'altronde che quel patto non piacesse a molti è un fatto. Anche dentro, forse Italia, l'area definita vincente non aveva gradito le interferenze trasversali. Così il commissario azzurro a Catania e assessore regionale catanese si era pronunciato immediatamente. È uno sbaglio madornale l'inviare le elezioni provinciali per quanto di secondo livello. E forse Italia si affretta a precisare, siamo pronti a votare l'emendamento proposto dal governo per il ripristino delle elezioni. È giusto che si vada subito al voto. E la scelta del governo di stoppare questo rinvio potrebbe avere effetti anche sul rimpasto in arrivo della misura in cui Musumeci abbia voglia di ribadire con forza la sua leadership. Insomma, il tagliando alla giunta la fa al presidente. E in molti nella coalizione che sostiene il governo tendono a liquidare il voto di mercoledì come un incidente. Il centrodestra si è spaccato votando il rinvio di un anno nel voto nei liberi consorsi giunti nell'ottavo anno di commissariamento e democrazia sospesa. Un blitz con modalità ai limiti dell'assurdo, un emendamento last minute presentato al disegno di legge sul resort, pesca e a Diporto, passato con voto segreto con 24 voti favorevoli su 33 votanti e 59 presenti all'Ars. Abbiamo appreso un paio di giorni fa di questo ulteriore inopinato rinvio delle elezioni per la carica di presidente della provincia e dell'elezione anche dei consigli provinciali. Riteniamo che sia qualcosa di veramente incomprensibile. È un vulnus della democrazia lasciare un ente così importante in regime commissariale da ben sette anni e vuol dire veramente non avere a cuore le sorti del nostro territorio. È certamente una situazione paradossale. Noi chiediamo con forza che venga posto rimedio a quanto accaduto perché riteniamo che si possa ancora cambiare rotta e programmare finalmente queste elezioni prima possibile.